Ci siamo ragazzi, è finita. Beatrice, 30 anni, eccola qua. Sto vecchia, basta. Finita. Sta finendo la festa, però è finita. Lei è la nostra sposa di qualche anno fa, quindi siamo rimasti in famiglia. Allora, com'è andata la festa? C'è buono, è bellissima, è davvero. Intermational, abbiamo avuto sempre gente da tutto il mondo, sono venuti apposta a Parigi, Spizzera, Perù, sono venuti da Tenerife, da Bali, sono venuti apposta a Parigi. E anche Monza. Allora, sempre una bella festa, molto varia, ringraziamo la Franci, siamo Franci, ringraziamo la bea, ringraziamole, vincere. E' il cognato Tiziano, happy birthday, yeah, yeah. Happy birthday! Tutto perfetto. Sì. Tengo che mi no, Valentina, 40 anni, è vero, perché poi qua dicono, non è vero, sono 40, sono 40. Bella festa, è piaciuta, noi sì, spero. Perfetto, hanno ballato dalle 8 alle, che ora sono adesso le 2. Hai berata le 2, ininterrottamente. Praticamente chi si, ballavano chi si. Sì, sì, è vero, questa è una bella soddisfazione, sei riusciti a entrare, diciamo, nel cuore di tutti. Super bravi. Beh, ma poi molto vario, credo, no, cosa abbiamo fatto un po' di tutto, dagli anni 70, le cose attuali anni, perché insomma, abbiamo toccato anche terreno. Italiana, inglese, latina, abbiamo variato tutto, varie epoche, e niente, abbiamo ballato tutti, non me lo sarei mai aspettato, era la mia speranza ed è successo. Ok, insomma, più di questo non siamo troppo contenti, è stato un piacere, quindi auguri. Grazie, grazie a voi. E lei, la donna del giorno, l'ha festeggiata, 18 anni, beata lei, bella festa, piaciuta? Sì, tantissimo, sono bellissima, musica top, bravissimo Jody. Grazie, grazie. E Mister Ricky. Mister Ricky. Seratona, 4 anni, che perché siamo qua dalle 7 di pomeriggio, quindi abbiamo fatto circa 10 ore di festa, si sono fermati un attimo, forse un minuto, ma non so neanche quello. E quindi bella. Musica never stop, never stop, never stop, poi tra l'altro l'anno scorso il fratello, Andrea, quest'anno tocca a Emma. Non si smettisce mai. E quindi giustamente la tradizione di famiglia, ormai siamo un po' come gli zii, insomma, dai, i nonni, vabbè. E quindi il prossimo che è, sarà il battesimo, il matrimonio, no? Prima del matrimonio, dai. Certo, sì. Eh, facciamo per i venti, dai, 18-20. 20-20. Allora, ci vediamo tra due anni al compleanno di Emma, va bene? Grazie. Ciao. Vincenzo, uno dei compleanni di oggi, con la più vicina alla consola, con lo sottotiro che avevamo sott'occhio. Com'è andata? Ha piaciuto? Alla grande, divertito tantissimo, bella compagnia, grande DJ, bellissima musica. Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con Mauro Antonella. Ciao a tutti. Mauro ha festeggiato i 50 anni. Ciao. Festa stupenda. Alla grande, grazie a voi. Facciamoci dire qualche commento da loro in diretta. Grandissimo, non me l'aspettavo, è stato stupendo, la musica bellissima. Grazie a Giorgio. Avete fatto un ottimo lavoro. La serata è andata al di là delle aspettative. Sono tutti contenti e gli invitati, grazie. Festa sorpresa riuscita. Alla grande. Grazie. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao di DG4, abbiamo finito la partita. È stata un'ottima partita di Alex, il 6th anno, ma ho l'UBA, l'organizzante internazionale e l'organizzante internazionale che chiede questa bella locazione di Stresa e chiede DG4 per la musica. Allora, grazie a tutti per questa opportunità. Lo amiamo molto. Che dire al mondo? Prima di tutto, voglio dirti grazie, grazie mille, perché tutti sono molto contenti. Grazie. E in inglese, I'm a wedding planner and event planner, I'm located in Boston, but I'm specializing in some events in Italy because I'm in love with Italy myself and I'm always looking for talents, for talented vendors to bring to my clients to offer them something great. And I'm very happy to tell you that we did, because I think together we've done beautiful, beautiful celebration for our friends from Boston and it looks like everyone, everyone is just happy and the music was perfect and the light was great and the microphone worked and we played some music between when the speech finished, when the speech finished, when the very moment, the timing was great and the participation of the team was really great, so I would be happy to work again, I would be happy to work again, we're very happy to do that. We count on it, we have a special bond with Boston now. No, 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 no! No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ok, DJ Ford has finished the party yet? Yes. What about this party, Elizabeth? It was fantastic. You are great. I love it. Me encantò, fantastico, 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 muy professional, la musica fantastica, it was really È davvero bello, grazie. È stato un pari multio internazionale. Ci sono circa 10 paesi diversi. Ancora più! Ancora più! Penso 16 paesi. 16 paesi. Possiamo resumirlo. Alemano. Argentino. Italiano. Fini. Guatemala. Perù. Ecuador. Croazia. Raffa. La Repubblica. La Repubblica. Molti diversi paesi. Corea, Cina. Corea, Cina. Sud-Africa. Suizia. Molti diversi paesi. Ma speriamo che sia unione con la musica. È stato fantastico. È stato molto professionale. È stato molto felice. Non poteva essere meglio. È stato molto felice. È stato molto bello. È stato molto bello. Ho sentito in casa. Siamo vediamo. Sì. Sì. Per il prossimo paesi. Sì. Capitola. Grazie. E diciamo «Ai» alle nostre amici. Alessandro in cui. Bye-bye. Ciao. Grazie. Ok.